Con i 16 morti registrati nel bollettino regionale di oggi, in Puglia è stata superata la soglia delle 8.000 vittime di Covid dall'inizio della pandemia a oggi. Un numero pesantissimo in 25 mesi di emergenza, sebbene il numero giornaliero dei deceduti sia notevolmente diminuito negli ultimi tempi, almeno più basso rispetto ai periodi più bui dell'emergenza, in una regione che comunque ha fatto registrare un tasso di mortalità tra i più alti delle regioni del sud. Le vittime sono complessivamente 8.015, oggi altri 8.411 nuovi casi positivi su 62.971 tamponi, fanno registrare un'incidenza del 13,35%. Sono 2.967 nuovi casi in provincia di Bari, 513 nella BAT, 888 nel Brindisino, 1.089 nell'area del capoluogo Dauno, 1.759 in Salento, 1.162 nella provincia di Taranto e a chiudere il quadro 46 casi da fuori regione, 17 in corso di definizione. Delle 114.657 persone attualmente positive, 690 sono ricoverate in area non critica e 40 in terapia intensiva. La percentuale di occupazione dei posti letto degli ospedali della Puglia da parte dei pazienti Covid resta infatti elevata, come conferma l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Nei reparti di malattie infettive e pneumologia il 23% dei letti è occupato da pazienti positivi al coronavirus, 8 punti sopra la media nazionale, mentre nella terapia intensiva il tasso di occupazione è risalito dal 7 all'8%, 3 punti sopra la media nazionale. In generale, rilevano gli esperti, si osserva una tendenza all'aumento dei ricoveri degli ingressi per Covid-19 nelle intensive. I valori dell'incidenza sono eterogeni, mentre i dati confermano che il picco dei contagi poco marcato è stato raggiunto due settimane fa. In pratica però attualmente la situazione epidemica appare caratterizzata da una condizione di stabilità, sia pure con numeri ancora elevati, ma bisognerà attendere ancora una decina di giorni per capire se l'ulteriore allargamento delle misure partito dal 1 aprile determinerà un impatto in termini di crescita dei casi.